In che modo l'Istituto Rozzi partecipa all'organizzazione della Fiera dell'Agricoltura? La Fiera dell'Agricoltura è nata nell'Istituto Agrario Rozzi, poi nel tempo si è spostata in altre parti della città per poi arrivare a Piano Daccio. Comunque la scuola è rimasta sempre in collaborazione. L'anno scorso ad esempio era all'interno della Fiera, però avevamo la nostra esposizione all'interno del parco dell'Istituto Rozzi e ci occupavamo dei convegni. Quest'anno c'è una novità, l'Istituto Agrario sarà presente proprio all'interno della location di Piano Daccio, però con un proprio padiglione all'interno del quale saranno organizzati dei laboratori che saranno un po' l'attrattiva di tutti i ragazzi, i bambini della scuola elementare, i ragazzi della scuola media, delle scuole superiori. Quindi sarà un momento importante di collaborazione e anche per quanto riguarda l'organizzazione dei convegni che rappresentano proprio la parte più scientifica, culturale della Fiera dell'Agricoltura. Infatti, come dire, la nostra collaborazione è stata sempre un po' un valore aggiunto che ha permesso anche alla Fiera dell'Agricoltura di Teramo di avere un riconoscimento regionale. Quanti saranno gli alunni convolti in questa iniziativa? Durante la Fiera l'Istituto è coinvolto in pieno con tutte le, maggiormente con le classi del triennio e poi c'è una preparazione di un'intera settimana. È veramente un momento di grande festa ma anche di grande lavoro. Quest'anno una novità sono i laboratori? Sì, come novità noi abbiamo sempre organizzato dei laboratori all'interno dell'Istituto. però la novità sarà che i ragazzi potranno trovare i bambini in laboratori all'interno della Fiera. Quindi ci saranno attività nuove anche per quanto riguarda laboratori di presentazione dei prodotti e di trasformazione in considerazione anche del fatto che all'interno del nostro istituto è presente anche di indirizzo di enogastronomia del di Poppa. Grazie. Grazie.